Con questo tutorial vediamo degli esercizi sulle somme trarradicali. Partiamo da questo primo esempio. Allora, qui ho un a alla seconda denominatore e posso portare fuori. E allora vado a scrivere 2a fratto b per 1 su a radice di 2 fratto b più 2 radice di 2 fratto b meno. Questo 32 lo posso immaginare scritto come 16 per 2 e la radice di 16 mi viene 4 e vado a scrivere quindi 2 fratto b. Ora, qui ho un a e qui ho un a e posso andare a semplificare. Vado a riscrivere ed ottengo 2 fratto b radice di 2 fratto b e poi ho un 2 meno 4 che fa meno 2 radice di 2 fratto b. Vediamo quest'altro esempio. Allora, qui ho radice di 48 alla seconda xy. Questo 48 lo posso immaginare scritto come 16 per 3 e allora la radice di 16 mi viene 4. Poi posso portare fuori questo a alla seconda e allora vado a scrivere 8a radice di 3xy. Poi posso portare fuori questo a alla seconda e allora vado a scrivere 8a radice di 3xy. Poi posso semplificare questo 2 con questo 8 e vado a scrivere quindi qua tolgo e qui vado a scrivere 4 e riscrivo meno radice quarta. Qui posso raggruppare una potenza 2 e allora vado a scrivere 3a alla seconda xy tutto quanto alla seconda. In questa maniera vado a semplificare questo 2 con questo 4 e quindi mi rimane radice quadrata. Ora vado a fare subito 4a più 8a ed ottengo 12a radice di 3xy meno radice quadrata di 3a alla seconda xy. Posso portare fuori questo a quadro e scrivere 12a radice di 3xy meno a radice di 3xy. Ora 12a meno a fa 11a radice di 3xy. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo radicale lo vado a riscrivere così com'è e vado a scrivere radice di x meno 2y più radice. Qui tra 4x e 8y posso mettere in evidenza un 4x meno 2y meno radice. Qui tra 36 e 72 posso mettere in evidenza un 36x meno 2y. Ora vado a ricopiare radice di x meno 2y più questo 4 lo posso portare fuori dalla radice e scrivere 2 radice di x meno 2y meno la radice di 36x meno 2y. A questo punto posso sommare 1 più 2 che fa 3, 3 meno 6 mi dà meno 3 radice di x meno 2y. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui vado a fare subito il minimo comune multiplo e qui posso andare a mettere in evidenza un a alla seconda. Allora facendo il minimo comune multiplo ottengo a meno 1 fratto a alla seconda più radice di a alla seconda che moltiplica a meno 1. Ora posso portare fuori dalla radice questo a quadro e andare a scrivere 1 fratto a radice di a meno 1 più. Posso portare fuori dalla radice questo a quadro e scrivere a radice di a meno 1. Ora posso andare a riscrivere in questa maniera 1 su a più a che moltiplica radice di a meno 1. Se voglio posso fare anche qui il minimo comune multiplo ed ottenere a alla seconda più 1 fratto a radice di a meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui ho un x meno y alla terza sotto radice terza quindi posso portare fuori un x meno y. Poi ho un x più y alla quarta sotto radice terza quindi posso portare fuori dalla radice un x più y. Radice terza di x più y poi più e ricopio 2x radice terza di x più y meno x alla seconda. Qui posso semplificare questo 6 con questo 2 e quindi diventa un radice terza e qui tolgo un 2 e quindi vado a scrivere radice terza di x più y. Ora ho questi radicali che sono tutti uguali tra di loro e qui invece sviluppo questo prodotto ed ottengo x alla seconda meno y alla seconda. Poi vado ad aggiungere questo più 2x poi ho un meno x quadro cioè questo qui tutto quanto che moltiplica radice terza di x più y. Ora vado a semplificare questo x quadro con questo meno x quadro ed ottenere come risultato 2x meno y alla seconda che moltiplica radice terza di x più y. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui ho un 27 a denominatore che è 3 alla terza e posso portare fuori dalla radice e scrivere un terzo radice terza di 3 a più b. Poi meno. Allora qui ho un 24 e un 8 allora posso mettere in evidenza un 8 e scrivere radice terza di 8 che moltiplica 3 a più b più radice terza. Allora qui posso mettere tra 375 e 125 posso mettere in evidenza 125. 3 a più b. Ora la prima parte questa la vado a ricopiare così com'è e scrivo un terzo radice terza di 3 a più b meno. Allora questo 8 lo immagino scritto come 2 alla terza e quindi ho radice terza di 2 alla terza e allora posso portare fuori un 2. Radice terza di 3 a più b. Poi ho più. Qui ho 125 che non è nient'altro che 5 alla terza e quindi 5 alla terza sotto radice terza mi da proprio 5 e scrivo 5 radice terza di 3 a più b. A questo punto basta fare un terzo meno 2 più 5 e ottenere come risultato 10 terzi radice terza di 3 a più b. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui ho un 20 e un 4 quindi posso mettere in evidenza un 4 e scrivo 4 che moltiplica 5y meno 1 più. Questa parte la vado a ricopiare un mezzo radice di 5y meno 1 meno radice quarta. Allora questo qui non è nient'altro che un quadrato di binomio cioè è 5y meno 1 alla seconda. Ora posso semplificare questo 2 con questo 4 e quindi qui tolgo il 2 e qui mi rimane proprio radice quadrata. Ora rinizio. Qui questo 4 lo immagino posso portare fuori un 2 e allora vado a scrivere 2 radice di 5y meno 1 più un mezzo radice di 5y meno 1 meno radice di 5y meno 1. Ora faccio 2 più un mezzo meno 1 e a conti fatti ottengo 3 mezzi radice di 5y meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo prodotto non è nient'altro che una differenza di quadrati. È un a più b per a meno b. Cioè basta moltiplicare questa quantità meno quest'altra quantità. Allora 3 radice di x per 3 radice di x mi dà 9x meno 5 radice di xy per meno 5 radice di xy ottengo 25xy. Poi meno apro la parentesi. Anche questo prodotto non è nient'altro che una differenza di quadrati. A più b a meno b. Allora vado a moltiplicare questa quantità per questa quantità meno questo per questo. E allora ottengo 4x meno 9xy. A questo punto vado a scrivere 9x meno 25xy meno 4x più 9xy ed ottengo 9x meno 4x uguale 5x. Poi ho meno 25xy più 9xy. Vediamo quest'altro esempio. Allora questa quantità la vado a ricopiare così com'è e vado a scrivere radice di a alla seconda più 1 più. Allora qui posso mettere in evidenza un 9 e vado a scrivere radice di 9 che moltiplica a alla seconda più 1 più radice quarta. Allora questa quantità non è nient'altro che un quadrato di binomio ed è un 4a alla seconda più 4 tutto quanto alla seconda. In questa maniera posso semplificare questo 2 con questo 4. Allora tolgo questo 2 e radice quarta diventa radice quadrata. Ora questa quantità la ricopio così com'è e scrivo radice di a alla seconda più 1. Qui ho radice di 9 quindi radice di 9 è 3 e scrivo più 3 radice di a alla seconda più 1. Poi più radice quadrata di 4 che moltiplica a alla seconda più 1. Ora posso portare fuori questo 4 ed ottenere 2. Allora ho un 2 più 3 fa 5 più 1 è uguale a 6 radice quadrata di a alla seconda più 1. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora qui faccio la moltiplicazione radice di x per radice di xy è uguale a scrivere radice di x alla seconda y più radice di y per radice di xy è uguale a scrivere radice di xy alla seconda meno 2y radice di x meno x radice di y. Ora questo x quadro lo posso portare fuori dalla radice perché ho radice di x quadro e quindi scrivere x radice di y più questo y quadro lo posso portare fuori dalla radice e scrivere y radice di x poi meno 2y radice di x meno x radice di y. A questo punto posso andare a semplificare questo x radice di y con il meno x radice di y ed infine sommare y meno 2y ed ottenere meno y radice di x. E con questo esempio termino questo tutorial sulla somma tra radicali.